Allora ragazzi, prima partecipazione al campionato di calcio a 5 e prima finale centrata. Questa sera incontrate nella finale di terzo e quarto dell'Europa League, Pancia United. Volevo sapere da voi l'impressione della stagione che va a concludersi e quella che potrebbe essere la finale di questa sera. La stagione è stata bella, mi sono divertito, infatti è abbastanza forte, quindi il livello è alto e per questa sera vediamo. Le mie impressioni alla fine le abbiamo fatto fin troppo perché siamo partiti con delle aspettative più basse, siamo arrivati in finale. Siete il sassuolo della futsal, grazie ragazzi. Grazie.